Wookie World F1 guidare una vera monoposto è sempre stato un mio grandissimo sogno fin da bambino guardavo un po' Ayrton Senna, era il mio mito, volevo emularlo grazie al Wookie World oggi ho potuto fare un giro su questa F1 scoprendo che volte andare a piedi non è poi così male addirittura le volte si fa molto molto prima un sogno è diventato un incubo, scopriamo il perché Wookie World F1, eh no ragazzi questo F1 purtroppo non è Formula 1 è stata una mera illusione, in realtà si tratta del tasto F1 della tastiera ossia il tasto che spesso è associato alla guida, al tasto aiuto, al tasto help perché quando utilizzerete questo telefono spesso vi verrà voglia di chiedere aiuto a parte gli scherzi prima di iniziare questa video recensione mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel pollice alto e condividete il link di questo video con i vostri amici per far conoscere Mac iTech ma andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo telefono che vi ricordo costa solamente 45 euro è un telefono entry level e come vedremo le caratteristiche sono proprio da entry level non ha nulla di così eclatante anzi già vi anticipo che non è sicuramente un telefono eccezionale da questo punto di vista chiaramente poi andremo a analizzare questa recensione basandosi sul suo costo quindi anche i voti finali li darò tenendo conto anche di quanto costa il telefono che vi ricordo lo trovate online a 45 euro partiamo dalle sue dimensioni abbiamo una larghezza di 64 mm per un'altezza di 131 mm uno spessore di 9 mm per quanto riguarda la parte più alta quella centrale mentre i bordi che vedete scende leggermente abbiamo circa 7,9 mm lo schermo è da 4.5 pollici quindi in mano devo dire anche grazie al fatto che come vedete i lati sono leggermente curvi si tiene in mano bene è stata una goduria la prima volta che l'ho tirato fuori dalla scatola come avete visto nell'unboxing mi sono quasi emozionato perché era da tanto tempo che non riuscivo a raggiungere con il pollicione tutto il telefono qualsiasi angolo vedete copro praticamente ogni punto del telefono questo è sicuramente un aspetto che gioca a vantaggio di questo telefono diciamo che anche Wookie World pubblicizza questo aspetto sul suo sito e ragazzi c'è un po' da ridere nel senso nel 2016 dobbiamo far notare come un telefono è piccolo perché adesso stiamo andando sul periodo storico dei telefoni enormi quindi da questo punto di vista è stato sicuramente piacevole come scoperta questo telefono in mano quindi si tiene molto bene i materiali sono completamente in plastica abbiamo policarbonato sia per quanto riguarda la cover che il frame laterale questo non è alluminio anche se la colorazione potrà essere in inganno devo dire che c'è sì qualche scritti olio se lo andate a muovere sentite forse anche sottofondo si sente qualcosa comunque diciamo che lì in massimo l'assemblaggio è buono non ho avuto particolari problemi da questo punto di vista come vedrete anche estrarre la cover posteriore magari adesso lo facciamo subito vediamo se riusciamo è abbastanza difficile dovete mettere l'unghia dentro questa fessuretta che hanno lasciato per proprio andare a agevolare l'apertura del telefono partiamo magari a questo punto proprio dal suo contenuto abbiamo una batteria da 1850 mAh che come vedremo ci porta a sera a stento con un utilizzo medio quindi coprirete una giornata al massimo sognatevi scordatevi e sognatevi pure le due giornate abbiamo un dual sim come vedete supporta solamente 3G quindi non è 4G abbiamo una sim standard vedete quelle grandi quelle che si usavano una volta diciamo che adesso è difficile quasi trovarle e abbiamo una micro sim a fianco abbiamo la micro sd quindi come vedete non dovremo rinunciare a nessuna sim per andare a espandere il telefono di memoria cosa che tra l'altro consiglio in quanto il telefono ha solamente 8 gigabyte di memoria interna quindi è consigliatissimo l'utilizzo di una micro sd per andare ad espanderlo bene adesso l'abbiamo chiuso bene andiamo a vedere un attimo le sue caratteristiche partendo dal suo lato sinistro che è completamente libero vedete non c'è nulla sotto abbiamo il microfono sul lato destro bilanciare il volume tasto di accensione e spegnimento e sopra abbiamo il jack delle cuffie da 3,5 e la micro sb per la ricarica come vedete quindi sopra non è sotto questo l'ho trovato abbastanza scomodo quando ad esempio lo vado a caricare sul tavolo di casa mi tocca sempre girarlo sotto sopra perché ho il jack che viene da sotto la scrivania e quindi è un po' scomoda questa cosa di avere la ricarica secondo il mio punto di vista dietro abbiamo una fotocamera che ahimè come vedremo era quasi meglio che non ci fosse comunque è una fotocamera da 5 megapixel con autofocus vabbè così almeno c'è scritto sul sito abbiamo il flash led che anche qui illumina pochissimo la scritta vkeyword ossia il nome del produttore e il lato parlante di sistema qui sotto quindi quando lo andremo appoggiare verrà tappato dalla superficie in cui si andrà a appoggiare davanti abbiamo una fotocamera da 2 megapixel e anche qui in questo caso abbiamo un flash che come vedremo non servirà praticamente a nulla già potete vedere quanto poco olofobico è il display ma d'altronde a 45 euro non mi aspettavo di meglio sotto abbiamo come vedete i tasti che sono sulla scocca quindi sono soft touch non sono retroilluminati ma hanno una piccola vibrazione quando andiamo a premerli adesso magari lo accendo mentre parte gli posso già dare qualche caratteristica di questo display che vi ripeto è 4.5 pollici quindi abbastanza contenute le sue dimensioni abbiamo una risoluzione che è di 854x480 pixel fwwga ips quindi si vede decentemente diciamo anche se la risoluzione ovviamente non è elevatissima vedete i tempi di avvio comunque anche nei videogiochi come vedremo il fatto che non abbia tantissimi pixel da muovere lo aiutano tra virgolette anche se in realtà non è sicuramente un telefono per giocare come vedete è partito in tempi discreti possiamo dire così comunque ragazzi tenete sempre conto dei 45 euro lo andiamo a sbloccare se è già connesso al wifi subito dentro la 2.5 avete visto una raggiagganciata e andiamo a vedere la fotocamera partiamo subito con il nostro test la fotocamera vi dico subito che fa schifo non si può dire ve lo posso dire ormai l'ho detto facciamo una foto giusto perché di sì il tempo di messa a fuoco è abbastanza lento il fuoco è anche abbastanza pessimo infatti io non mi faccio neanche vedere più di tanto la fotocamera come funziona anche perché tra l'altro è la fotocamera stock di Mediatek versione Android 5.1 andiamo però subito nella galleria vi faccio vedere questa foto come è venuta vi faccio anche vedere le foto che ho scattato durante la mia settimana abbondante di utilizzo come vedete la foto di per sé non è chiaramente ben dettagliata vedete nonostante avessimo le condizioni migliori di luce qui abbiamo due fareti che illuminano a giorno comunque è venuta sfocata addirittura c'è del giallognolo in mezzo che non ci sa da dove deriva vedete sicuramente non una buona fotocamera questa foto ad esempio è scattata con un tempo abbastanza uggioso abbastanza sfocata nel mezzo non sicuramente una buona foto questa le macro vengono abbastanza buone considerando la qualità della fotocamera questa è una foto senza HDR questa è una foto con HDR vedete come spara il bianco fotocamera frontale vedete due megapixel si vedono tutti addirittura ragazzi mi ha fatto praticamente un lifting oltre a sgranarmi tutto quindi la faccia ci sta tutta in questo caso andiamo con la prossima foto che è in realtà una foto fatta con la fotocamera frontale praticamente non si vede nulla il flash in questo caso non serve praticamente a nulla non considererei neanche la fotocamera per un telefono di questo prezzo sicuramente non dovrete aspettarvi una buona fotocamera appunto se andrete a comprare questo telefono mi pare anche una cosa abbastanza scontata però andiamo a vedere il display che poi è la cosa più importante vado ad alzare la luminosità al massimo devo dire che la luminosità è abbastanza buona abbastanza elevata non c'è la luminosità adattiva manca il sensore di luminosità infatti c'è quello di prossimità a quanto dicono io ho anche il dubbio che ci sia quello comunque vedete i colori sono discreti anche comunque considerando il pannello IPS FW VGA non sono comunque male forse un po' sparati bianchi vedete anche qui quando ci va a inclinare il classico dell'IPS diventa grigio insomma con colori abbastanza ben regolati c'è comunque la possibilità tramite il miravigio di andare a tarare i colori come meglio preferite contrasti buoni questa è una griglia 1080 vedete viene riscalata comunque abbastanza bene nonostante queste linee si vedano meno comunque diciamo è riprodotta tutta il display risulta centrato come vi dicevo però guardate già le ditate che rimangono su questo display andiamo avanti vediamo se adesso si è girata andiamo a vedere il nostro nero che come tutti gli IPS in realtà vedete è abbastanza grigetto questo è il nero della cornice e questo invece è il display vedete la differenza comunque diciamo che per il prezzo del telefono il display non è malissimo vi faccio già vedere anche i benchmark che ho eseguito con Geekbench 3 ragazzi vedete un po' voi alla fine di questa video recensione vi darò le mie considerazioni finali diciamo che come comparto multimediale vi anticipo che la sufficienza posso anche tirargliela proprio per i capelli proprio perché costa poco questo telefono è già un miracolo quasi che si accenda per il prezzo che ha secondo me vedete i video comunque in full hd li riproduce bene un po' lento a spostarsi vedere a fare il shake della posizione un po' abbastanza lento comunque anche accettiamo l'audio quando partono vengono anche riprodotti in maniera discreta andiamo a vedere adesso la navigazione web su questo telefono che è un po' diciamo che su uno smartphone ci aspetta proprio questo che sia ottima e veloce no grazie non voglio utilizzare chrome il mio account andiamo subito a ricaricare il corriere.it che era già stato caricato nella mia prova precedente lo andiamo a caricare adesso sono in wifi con le due sim vedete questo è un appunto che voglio fare allora nonostante il wifi prende bene è un wifi bgn quindi devo dire che tutto sommato si è comportato sempre discretamente quello che mi ha lasciato un po' perplesso però è la qualità di ricezione del segnale non tanto quanto il campo diciamo gsm per chiamare che quello è sempre abbastanza buono però quello che mi ha lasciato un po' dubbioso è sicuramente la ricezione della portante dati infatti vedete qui adesso sono in roaming dove solitamente con questa sim riesco a ottenere quanto meno un 3G chiaramente H no perché sono dentro casa in questo posto qui però solitamente un 3G riesco a ottenerlo quando la pagina è caricata avete visto non velocissimo il caricamento però quando è caricata vedete gira abbastanza fluido andiamo a fare un pin to zoom vedete non è malissimo chiaramente non segue bene le dita vedete perde qualche colpo anche con il pan del singolo dito non ci siamo però diciamo che per un uso accorto e abbastanza lento diciamo della navigazione gli possiamo dare la sufficienza sempre tirata per i capelli ragazzi io a fine di questa recensione metterò una tabella con i voti relativi al prezzo quindi comparando a quanto viene venduto questo telefono e poi una tabella con i voti effettivamente che io mi sento di dare andiamo a aprire la nostra musica di test mettiamo il volume a massimo volume che è abbastanza basso non altissimo invece gli alti proprio sono a manetta bassi praticamente non esistono quindi anche l'audio ragazzi io gli do un 5 sono anche in difficoltà da arrivare a questo telefono perché mi sentirei quasi di bocciarlo praticamente in tutto finora però ogni volta ho un picchio in testa che mi dice mac 45 euro ricordati 45 euro quindi effettivamente gli do un 5 alla musica perché costa poco sempre quello è il motivo ragazzi andiamo magari a vedere anche cpu z cosa dice di questo telefono prima non l'ho fatto vedere comunque abbiamo a bordo un mediatek mt 6580 a 1.3 giga quindi cortex a 53 abbiamo una mali 400 mp per quanto riguarda la gpu 1 giga di ram 8 giga di storage interno come vi ho già accennato android 5.1 a bordo una batteria che come vi ho già detto è 1850 mAh con i vari sensori diciamo abbiamo l'accelerometro prossimità e luminosità non abbiamo niente altro andiamo a effettuare adesso la nostra chiamata al 133 per vedere come si comporta nelle telefonate magari almeno in questo può essere un telefono allora andiamo a chiamare con la nostra sim 3 andiamo a mettere la voce il volume come avete sentito anche in questo caso non è altissimo nella capsula auricolare del telefono si sente discretamente chiaramente la qualità non è eccezionale però devo dire che si riesce a dialogare bene con la persona che sta all'altro capo del telefono quindi come telefono diciamo funziona almeno questo andiamo a vedere adesso come si comporta nel gaming vi dico già che aprire Real Racing passerà un'eternità eccoci finalmente in gara ce l'abbiamo fatta vedete i dettagli sono tutti ci sono anche le nuvole però la qualità è veramente bassa vedete non c'è sicuramente anti-aliasing non c'è nulla di che la risoluzione è bassa ovviamente il frame grazie a questo non è malissimo però è abbastanza scattoso diciamo che potrete giocare sicuramente a Real Racing però non è certamente un telefono per giocare anche se come vedete quando lo utilizzerete con Real Racing ad esempio non si comporterà malissimo chiaramente accettando il fatto di avere una grafica non eccezionale magari prima di chiudere questa video recensione di dare il mio parere finale vi faccio vedere anche il tempo di apertura delle gestori delle pagine di Facebook è un po' come aprire Facebook vedete lentissimo come era ovvio attendersi vediamo un po' quando ci sta comunque magari nel frattempo vi andate a fare un caffè vi andate a fare un pisolino quando parte però vedete è sempre scattoso ogni volta che uno dice quando parte però poi va bene in realtà qui rimane abbastanza scattoso no dai vedete si non è velocissimo ma ragazzi quello volete farci 45 euro ormai l'avrò detto 45 volte 45 euro scusate ma andiamo quindi adesso a vedere un po' i voti generali che do a questo telefono quali sono i pro e i contro sicuramente i pro è il prezzo ci mancherebbe altro il display di 4.5 pollici quindi sicuramente è un pro si tiene bene in mano abbiamo il mirror vision per tarare i colori abbiamo un dual sim con l'espansione quindi non dovremo rinunciare alla sim abbiamo anche il doppio tap per andare a risvegliarlo non è possibile disattivarlo come contro abbiamo sicuramente che è lento praticamente in tutte le cose sia nell'apertura delle applicazioni multimediali sia nella fotocamera sia nell'apertura delle pagine web come abbiamo visto in linea di massima è molto lento non ha la luminosità adattiva e ci mancherebbe altro perché lento com'è adatterebbe la luminosità magari il giorno dopo quindi meglio quasi che non ci sia la fotocamera manco ne parliamo è davvero pessima flash inutili audio piuttosto scadente gli diamo un 5 paragonandola al suo prezzo abbiamo un touch feel scarso perché come vediamo adesso in questa prova che vi faccio ma riscrivo un sms se voi scrivete in maniera troppo rapida ciao mac come stai io sto bene e tu in questo caso vedete sono riuscito a scriverlo bene ma grazie alla swift key che mi ha corretto praticamente tutti gli errori ma se andate a scrivere troppo velocemente con le dita vi si incarterà perderà dei tocchi non riuscirete a scrivere quello che volevate scrivere il touch è supporta infatti solamente due tocchi questo è bene ricordarlo quello posso dirvi ragazzi questo telefono sicuramente è utile solamente per telefonare quindi come secondo telefono se lo utilizzerete solo per telefonare può andare bene anche a un prezzo veramente incredibile perché 45 euro io mi sono stupito vi ripeto che quasi si è acceso per questa video recensione fermi ai box ragazzi qui non si riparte più un bel pollici alto al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e spargete il link di questo video un saluto da Matteo e il finto formula 1 ragazzi anche la Cataram si è offesa dico solo questo un saluto da Matteo per MacAiTech ciao 2G inaugura la serie T e lo fa con questo 2G T6 andando ad ampliare la sua gamma di battery phone infatti abbiamo ben 6.250 mAh di batteria che però lo rendono piuttosto pesante devo dire che la prima volta che l'ho preso in mano mi è sembrato un pesantissimo fermacarte però poi andandolo a utilizzare nell'uso quotidiano mi sono dovuto ricredere e ad un prezzo di circa 100 euro diventa sicuramente un dispositivo interessante andiamo a scoprire perché e le sue caratteristiche nella nostra video recensione completa e le sue caratteristiche e le sue caratteristiche